Ben ritrovati amici avventurieri, eccoci qua di nuovo insieme, benvenuti su Millo Cloud Gaming, ovviamente io sono Millo, ma ormai questo già lo sapete, e ciao anche da Edward. Allora, ragazzi, dobbiamo andare avanti, gli obiettivi sono questi, però se andiamo avanti di qua, sicuramente andiamo verso l'obiettivo finale, credo, che è quello di cercare le lastre. Io invece vorrei provare a risolvere il discorso del disegno di Grace, non vorrei che poi, trovando le lastre, si finisce il capitolo 4, no? Allora, e poi che facciamo? Allora, torniamo indietro, come si torna indietro, no? Saperlo ora È chiuso, come ti fai? Allora Sì, c'è qualcosa qui Eh, ma non c'è mai niente da sti... Da sti scatole, ste cose, un po' di colpi, niente Dai, no, perché va a scatti ora? Io boffi... ma com'è tutto chiuso? Ma no, non ditemi che devo rifare tutto, cioè non posso tornare indietro Eh, perché qua pure è chiuso Oh, ci siamo fregati, non posso fare niente È chiuso Ma che peccato Ma no, abbiamo fatto per forzare le lastre Ma è che tanto poi ci si torna a Derseto, eh? Qua è chiuso Ma tu guarda che mi forzo ad andare lì Ah, io queste cose non sopporto nei videogiochi, raga Eh, niente Io queste cose proprio non le reggo Non le reggo proprio Cioè io mo' da qua so' venuto Perché non posso più tornare indietro? Solo perché ho aperto sta porta? Cioè io mo' praticamente mi perdo il coso di Grace Mi sembra una cosa normale questa? Non ho capito perché Cioè io da qua vengo, no? Perché me l'ha sbarrata la porta? Niente Ora il mio... la mia paura è Il disegno di Grace Lo riusciamo a trovare? Dopo ho fatto questo Oh no Sennò dobbiamo provare a ricaricare questo qua, raga Più avanti Vedete? Questo l'ho dieci minuti prima Facciamo un tentativo Eh Cioè ma si può una cosa del genere? Ecco Allora Roba da matti però Oddio Oh mio Dio Me l'ho dimenticata Stavolta Mi sono pure spaventato Allora Mo qua qua ci abbiamo Che obiettivi ci abbiamo? Cerca il tesoro Nel disegno di Grace Ok Quindi Dobbiamo venire di qua E dobbiamo aprire questa Ne ho bisogno di chi Ah non abbiamo ancora la chiave E allora forse lo dobbiamo fare dopo Eh allora niente Allora andiamo avanti Ci siamo adalti il dubbio Ci siamo adalti il dubbio A meno questo Eh Perché pure qua non ce l'ho la chiave Quindi suppongo che una chiave E qua ce l'ho invece Chiave della sala al piano terra Mappa Qui è aperto vedete L'abbiamo aperto Quel corridoio ci interessa a noi Va Io vado avanti Magari è una cosa che si sblocca dopo Raga E se no Se no vi rimando su Google E ce ne sono di diversi Di soluzioni Per il disegno di Grace Mo mi dispiace molto Ah vedete A meno che Oh bene 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 Abbiamo completato un'altra cosa Qui è chiuso Ripeto A meno che Raga è proprio così Indizio Radiografia Radiografia Paziente Jeremy Hartwood Data 14 giugno 1930 Le lastre Il cranio di Jeremy è stato difficile da esaminare Sono state ottenute dalle radiografie parziali È possibile visionare l'immagine completa del cervello Assemblando tre lastre Ok Anche esaminando l'immagine assemblata Un'ombra ricopre sezioni importanti del cervello di Jeremy Possibile tumore Ma non si può escludere un errore del macchinario Jeremy ha reagito pesantemente alle immagini Affermando di vedere un verme gigantesco divorare e dislocare i suoi ricordi Note Sebbene le radiografie non mi abbiano fornito risposte Sono fiducioso che una lobotomia di Burkhardt Reciderà E sì Tutte le parti interessate Ha detto Una lobotomia Ma ieri o no Guardate là Un'ipotetica psicochirurgia Bastata sulle idee di Burkhardt E sulle ricerche di San Pietroburgo Potrebbe salvare la vita di Jeremy Recidere le connessioni nell'area del lobo frontale Risolverebbe sicuramente le sue afflizioni mentali La procedura sarebbe brutale sia nell'esecuzione che nell'esito Un punteruolo piegato attraverso il bordo oculare Fino all'interno del cranio Scollegherebbe i nervi dello stesso modo In cui Alessandro Magno tagliò di netto il nodo gordiano Poiché questa pratica potrebbe alterare notevolmente le condizioni di Jeremy Va esplorata ogni altra possibile soluzione Lo strumento medico che mi servirebbe per questa lobotomia E' andato perso E dovrei chiedere a Weitz di ordinarne un altro Ma ci rendiamo conto? Raga Ecco una chiave Chiave della sala operatoria Ok Ecco la radiografia Che ci manca? Ci manca qualcosa? Un fusibile forse? Allora E ce ne manca un altro Allora Però uffi Spero davvero di poter andare a fare il Il discorso di Grace Ma una chiave Me la fai usare? Chico Un'altra Radiografia Ok Andiamo ora di qua Si apre qualcosa Perfetto L'ho messo L'ho messo fusibile Dalla radio Mi sembra giusto No? No Fatti Ok E' qua? E' chiuso Madonna mia Guarda Io queste cose non mi sopporto Raga Credetemi A me sto fatto che I programmatori Devono Devono praticamente Chiuderti le strade Di Di ritorno Non lo sopporto Non lo sopporto Non lo sopporto Più forte di me Non lo sopporto proprio Da fastidio Trovo una cosa pessima Una scelta di design pessima E ti costringe ovviamente A rigiocare E questo Eh no Tutti giù Ah Benissimo That's better That's better That's better Il dottor Gray Aveva sottoposto Jeremy ad alcuni esami medici Approfonditi Stava cercando di aprirsi Un barco nei ricordi di Jeremy A raggiungere la verità Proprio come Carby Che anche il dottor Gray Volesse rompere il contratto Allora Mo' No all'HB come Scusa non va di là Ah ecco appunto Quanti pezzi servono? Da tutti? Perché non va giù? Madonna mia Ma come è fatto male Mamma mia 3 Vabbà Allora Ma pure qua Va Perchiamo di capire E' visto dall'alto Ok Potrebbe essere così Ma là come ci va? Là non ci va Non può essere così Perché là non ci va A meno che E non ci va Non ci va Allora Allora deve essere Ce l'ho Forse Ce l'ho sì Una parola Un parolone Allora Questo lo giriamo Capito? E Ovviamente Viene qua Questa ripresa No vabbè raga Cioè Per favore Non si può Giocare così Ma seriamente Non è possibile Non è possibile Non è possibile Senza Non mette sti comandi Così Cioè Allora Secondo me Questo Guarda Guarda Ma perché sta girato Questo Allora Ok Ok E no Porco Il demonio Ma perché cambia target Come lo sposto Allora No vabbè No vabbè raga Io ci rinuncio Cioè Veramente Credete Mi sto impazzendo Non potete capire Quando lo farete Mi capirete Ma così Non si accoppia Però Però mi sembra Più realistico Questo No manco Tanto Ah sì Pensate Proprio Manco se li trovano Le linee Vabbè Un calamaro Un frammento Un frammento di argilla Bruciata Le sue dimensioni Suggeriscono Che faccia parte Di una statua Ah sì Ok Ma che succede Io salverei Raga Eh vabbè Non si può salvare Ok Niente Però abbiamo salvato lui Qui c'è qualcosa No vabbè Jeremy Non lo so Cioè Edward Non lo so Che stai facendo Posso darmene via Capito Tutto diverso Ora Allora Cagare Mi sono cagato sotto Corri 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 C'è l'acqua Devi correre Devi correre Devi correre Ho perso a tempo Ce la farò? No Ah di qua Eh dai Edward Mio Dio Ma che sta facendo Una gamba Cos'è Cos'è Sta zuzzeria Cos'è Sta zuzzeria Ma cos'era E si fermava Sulle scale Niente Saliva Boh 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 Eh vabbè Si attacca ai muri Ma che sta succedendo Mamma mia Ragazzi Però Dade una sistemata Sto gioco Non so È possibile Dai Mamma mia Proprio Ma l'hanno proprio Abbandonato Supporto Meno di zero Sono molto deluso Da questa cosa Credetemi Magari ci poteva Stare qualcosa Controllate Ragazzi Boh Ma devo risolvere Pure questo Signore Non gira Non la posso girare Ok E il numero Non ce l'ho Ah Sta scritto Qui 6 4 1 Sì Ma qual è Il grande Il piccolo E c'è Allora Cominciamo dal grande 6 No Sta entrando a me 4 1 6 Allora 4 1 6 No 6 1 4 No 6 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 6 6 6 6 Ma dove siamo finiti? Siamo sulla nave che avevamo letto l'altra volta Wow Mi sa che ce lo siamo persi il disegno di Grace Mi dispiace tanto Mi dispiace molto Non posso salvare E' peggiorato sto gioco Scusate ragazzi Sono molto Jeremy gridava aiuto Ma Carmi non riusciva a capire da dove provenisse la voce Per un momento Carmi si domandò Se Jeremy e il battello non fossero la stessa cosa O se l'uomo si trovasse sotto un'imbarcazione Ma in quel momento non era importante Jeremy fu chiaro su una cosa Carmi avrebbe dovuto mettere in moto il battello E ripartire Ok Mi dà fastidio se ci siamo persi Grace Perché non mi hanno fatto tornare indietro Sono veramente Veramente annoiato da questa cosa Scusatemi Così Devo dire la verità Allora questo qua fa il giro Avete visto intorno Quindi per forza di qua Sì va penso Mamma mia Ste zone così Poco ottimizzate Guardate Una cosa assurda Madonna che è sto Ma così di colpo Ma dico io Ma mi vuoi far dare il tempo di reagire Ma che sta succedendo Eh vabbè raga Ma come si fa Ma che sta succedendo Quindi la scuola è proprio quella E qua è chiusa Andiamo prima giù o su? Andiamo in su Ha salvato eh Forse raggiù Figuriamoci Mi so azzeccato la strada Io raga Ma non mi vuoi farlo Ma non mi vuoi farlo Santo Dio Cioè raga Veramente io non ho parole Non ho parole Cioè praticamente Io il tempo di mirare Lì mi salto addosso e non posso più Già vabbè niente Niente ovviamente Non ho colpi non nulla Ma secondo me conviene Schipparli questi sapete Con questa Non so E però di qua non si va scusate Che sono venuta a fare di qua Non si passa Non si passa no Ah forse di qua Sono venuta a spiegare solo colpi lì Ok prendiamo questo No Che poi ti tirano delle mazzate Che fanno veramente male Non dico che debbano far bene Però Manco così male E chiaramente è chiusa da questo lato Che ve lo dico a fa Però posso aprire qua Eh Dai Perfetto E qua dimmi che c'è un po' di Dai dammi qualche proiettile Chicco No vabbè Non ho parole No seriamente Niente Niente Vedete Cioè è stato proprio abbandonato Secondo me qua è proprio una mancanza di Di programmazione Cioè ci hanno messo sti cosi interattivi Ma Non c'è Cioè non c'è niente Non ci hanno messo Non si capisce per quale motivo Ah guardate raga Non è che dobbiamo andare prima di sotto Allora Vogliamo andare a vedere Per sicurezza Sennò ci saltiamo alle robe Invece ma era di qua La strada giusta Vabbè Commettiamo che qua ci si va a venire dopo aver fatto sopra Appunto Questa cosa raga Niente Non ci esce niente E qua non si va Ah vedete c'è una scala C'è una scala lì Quindi avevo preso la strada giusta Ah Jeremy Who are you Che peccato però Per quanto è gioco comunque per gli appassionati Io ne ho parlato anche bene Nella mia Diciamo Non recensione Ah Non è un peccato che abbiano Sprecato L'opportunità di fare un grande reboot Non lo so Hanno voluto O a me sembra che abbiano voluto un po' seguire il filone del Resident Evil Però è un po' troppo La Lone in the Dark è differente E lo devo portare in live Cioè Lo devo far vedere sull'altro canale Il primissimo Lone in the Dark Così capirete Certo ora non di farlo così Chiaramente Però così è un po' troppo Boh Allora Ok dell'olio Un serbatoio d'olio Sicuramente servirà a qualcosa Cioè vedete Non ci hanno messo niente qua dentro Raga E' come se Boh Non lo so Tanto chiudiamo qui Perfetto Così possiamo passare Qui sicuramente ci dobbiamo mettere l'olio E non c'è niente Niente di niente Cioè Hai capito? Assurdo Ecco Qua Non sono ricordati qualcosa Perfetto E ora lo mettiamo Qui Ah Vabbè Comunque benzina Non è olio Allora io faccio che salvo la partita Questa me la lascio Questa qua Non so perché Perché magari poi riesco a farvi vedere Il disegno di Grace Cioè la fa l'articone Contenuto extra Dove vado? Si torna indietro? Una scialuppa di salvataggio? Qui potrei consigliarvi di schippare tutto E conservare i proiettili Quella cosa migliore Vedi Vedi Vanti ne escono Qual è questa? Questa Così mi siamo risparmiati i proietti E tutto quanto Vedete dove siamo finiti? Se poi volete esplorare per bene Volete Fare fuori quei tizi Eccetera eccetera Allora niente Piano piano Anche ci sono un sacco di armi Minimini Eh potrei fare Così Ok Lo so ho visto Ora volevo esercire qualcosa Qua alla prendere Lì ho visto qualcosa Niente Qui invece Andiamo Ok dei colpi Perfetto Eh Vado? Cosa Cosa Mora Temui Stai Cosa Ma vado Ma Cosa Piccato Cosa 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 significa? Che hai dovuto morire? Sono il catalystico. Ho dovuto morire per fare la storia. Cosa storia? Cosa vuoi dire, Jeremy? 30 anni fa, Federico per me per morire. Non ti rende niente, Jeremy. Andale, trovare il tuo focus. Cosa vuoi? Non giocavo il mio parto. Ho escapato il mio dolore. Il mio destino. Di nuovo, trovare il tuo focus. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo, signor Conbee. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi non parlare con Jeremy? Non ho visto a Jeremy all day. Cosa vuoi, detective? Non, non ho. 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 Perchare il Jeremy. Bene. Mi sapete se lo hai. Cosa vuoi? Stai fregato della boccione. Ce la possiamo ancora fare a trovare il disegno di Grace. Allora lo facciamo la prossima volta. Jeremy gridava aiuto ma Carmi non riusciva a capire da dove provenisse la voce. Per un momento Carmi si dimandò se Jeremy e il battello fossero la stessa cosa. Questo l'abbiamo letto. No, questo l'abbiamo letto. Non so se non era uscito. Vabbè. Siamo di nuovo a Derseto. No. Adesso abbiamo la chiave della sala del piano terra. Non ho capito qual è sta chiave della sala del piano terra. Comunque. Nel prossimo video cercheremo di risolvere questo mistero di Carmi e di Grace. Ok? Ma per ora chiudo qui questo episodio di Halloween in the Dark. Vabbè. Dalla fine abbiamo fatto un po' di roba. Scusate se all'inizio ho fatto quei due caricamenti eccetera eccetera. E mi sono un po' lamentato. Ma raga. E' che quando vedi certe cose ti stanchi dopo un po'. Quando cominciano a succedere sempre. Poi avete visto l'ottimizzazione. Oggi proprio. Niente. Abbiamo fatto una parte con i piedi. Avete visto scatti eccetera eccetera. Però vabbè. Sicuramente è anche un po' colpa mia. Perché comunque lo sto giocando con grafica alta. E sono con GeForce Now. Quindi magari a volte può. Io accuso il gioco. Però magari può esserci anche un piccolo calo di connessione. Quindi succede questa cosa qua. Poi chiaramente. Tutto da vedere. Comunque. Giocatelo. Perché alla fine è una storia che se vi interessa. Ecco. Niente. Siamo andando avanti con le nostre indagini. Vedremo cosa è successo. Perché. Perché alcune cose con Carby. Sono diverse da Emily. Per l'appunto. Quindi. Per esempio. Io mi ricordo che con le lastre con Emily. Ci si arrivava da un altro punto. Se non ricordo male. Un altro viaggio. Assurdo. Quindi. Non lo so. Magari cambia su alcune cose. Va bene. Detto questo. Grazie mille. Vi invito a lasciare un like. Mi raccomando. Accendete la campanellina. Iscrivetevi al canale. Per essere sempre. Notificati su tutto. Grazie di quale. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao.